Ciao ragazzi, video faccia della notte, ovvero a rientro dal mio compleanno, perché prima non ce l'ho fatta, era tardissimo, era in ritardo, ero di corsa eccetera 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 ho detto vi faccio vedere il trucco a ritorno, quindi dopo 10, 11, 12, vabbè più di 4 ore che ce l'ho su e il vestitino della serata, era meglio l'outfit lo so ma non sono riuscita appunto a farlo vi faccio vedere al volo le scarpe, che sono quelle che avevo preso con i sal di tabata, calze 20 denari trasparenti praticamente, il vestitino per chi segue Michelinia come me l'ho visto nel suo video che aveva comprato delle cose da Zuiki e sono corsa a comprarlo anch'io vestitino con dettagli in pizzo e il suo coprispalle abbinato, carinissimo veramente, bello bello bello, riutilizzabile per un sacco di cose secondo me per quanto riguarda il trucco, ho su due ombretti di una palette di Natale dell'anno scorso della Kiko comunque un oro chiaro e un oro verde, sfumati tra di loro con una riga molto spessa di eyeliner all'interno della rima avevo la matita nera, non credo ci sia più, e sotto un pochino di oro verde sulle guance 1210NM, fondotinta della nuova collezione Stay Matte di Essence, numero 20 sulle labbra avevo la tinta per labbra di Yves Saint Laurent, la numero 13, credo comunque quella fucsia fucsia chiaro, rosa diciamo, e giustamente ho mangiato, bevuto, riso, scherzato eccetera, se n'è andata l'ho anche strofinata col fazzolettino, quindi è andata via, però direi che il trucco ha retto abbastanza i capelli li avevo lasciati così, abbastanza lisci, diciamo, accessori, il braccialetto di morellato più il braccialetto che mi è stato regalato quei punti da bottega verde, ho anche la collana ma non l'ho ancora indossata il regalo numero 2 di Cree, voi avete già visto la borsa, questa è la collanina di Broseway che mi ha regalato Cree bellissima, con i due cuoricini, uno rosa e uno viola che si intrecciano e anello di Cree alla mano avete già uno dei regali che ho ricevuto stasera, questo qua è la mia amica Franci l'anello di stroilioro che volevo quindi grazie chicca, grazie di cuore ok, a questo punto direi che vi saluto, questa sera abbiamo registrato un po' di cosine durante la cena quindi vi caricherò poi anche quelle domani, oltre appunto alla faccia della notte di questa sera e credo farò anche un piccolo brevissimo video di intro per farvi vedere due o tre regalini appunto che non mi sono arrivati durante la cena di stasera ma un paio di giorni fa vi lascio, sono sfinita, mi vado a struccare, a svestire e vado a Ninna ciao, buonanotte